Tra le azioni preventive di contenimento del contagio da coronavirus ci sono anche quelle che riguardano le strutture sanitarie, le più esposte assieme ai suoi operatori per entrare in contatto con il virus, come è accaduto al focolaio principale partito da Codogno. Una volta individuato il paziente zero è ripercorso il suo vissuto. Una delle porte che più di altre mette in comunicazione il mondo esterno con l'ambiente ospedaliero è proprio il pronto soccorso dove accedono soprattutto spontaneamente persone con varie patologie e che entrano in contatto con altri pazienti o personale medico sanitario. Per questo nella giornata di ieri è stata installata da parte della protezione civile di Fano una unità polifunzionale nell'area esterna al pronto soccorso. Quello che vedete alle mie spalle è il modulo dove verrà fatto il pre-triage, ovvero sia tutte le persone che presumibilmente a partire da domani arriveranno a piedi qui al pronto soccorso, quindi con i mezzi propri, quindi non all'interno di un'ambulanza del 118 e che mostreranno segni di patologia respiratoria, quindi febbre, tosse, starnuti, insomma quello che può essere una normale forma di raffreddamento verranno pretrattati in questo modulo per capire se sono potenziali portatori del virus. Dopodiché se tutto sarà come nella norma potranno usufruire del pronto soccorso e del percorso normale, se no avranno un percorso dedicato per non essere appunto a contatto con altri pazienti. È una forma molto avanzata di precauzione che qui Marche Nord vuole attuare. Fano è la prima a partire con questa tipologia di pre-triage, sicuramente anche nei prossimi giorni, anche su Pesaro vedremo la stessa cosa. Non deve allarmare in nessun modo questa operatività concertata per prevenire e nell'interesse della collettività a salvaguardia dei pazienti e del personale medico, dato che come ci ricorda Giorgio Palù, professore ordinario di microbiologia e virologia dell'Università di Padova ed ex presidente della Società Europea e Italiana di Virologia, il ciclo di replicazione di questo coronavirus è molto rapido ed è stata già accertata una capacità infettante superiore anche a quella della SARS, oltre ad una capacità di contagio umano con una mortalità però molto bassa, dell'1-2%. Pertanto in molti ospedali comparinano questi moduli ed anche in quelli di Marche Nord che si stanno adottando appunto ambienti filtro dove determinati pazienti con particolari sintomatologie verranno selezionati prima di accedere alla struttura.